Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, ringrazio chi è stato in live ieri con noi nell'immediato post partita a caldo dove abbiamo analizzato le situazioni appunto del match Napoli-Verona che si è giocata ieri 2-1 per i nostri azzurri, vittoriosi, tre punti fondamentali per quanto riguarda la classifica. Siamo sesti a pari merito con la Roma che dovrebbe giocare con il Cagliari stasera, vedremo poi cosa succederà nella partita Roma-Cagliari. Comunque era una vittoria fondamentale per quanto riguarda i punti e la testa del Napoli perché dobbiamo mettere soprattutto fiducia nelle teste di questi calciatori che sembrano ancora claudicanti. Siamo a 4 punti dalla Champions, è vero, è un'Atalanta che non si ferma assolutamente. Ne parliamo in questo video, facciamo un attimo un recap di ciò che è stata la partita. Ho alcune formazioni che ho stilato per quanto riguarda il 3 dietro, il 4 dietro e la posizione di Lindstrom perché si sta facendo tanto caos intorno a questo calciatore, soprattutto anche dal presidente che in conferenza ha calciato dei numeri dal taschino che sono completamente sballati. A me queste cose fanno salire il sangue al cervello. Prima di cominciare ragazzi vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così è stato aggiornato i suoi contenuti e un bel like che non guasta mai al sottoscritto e poi dà anche una spinta all'algoritmo e al Napoli per arrivare al quarto posto ragazzi. Vai sotto con i like e sempre Forza Napoli. Partiamo perché non voglio dilungarmi troppo, ci sono tanti screenshot da farvi vedere, non andate via e guardate il video fino alla fine. Partiamo da questi screenshot che sono praticamente le posizioni di Lindstrom in campo dati transferm act ovviamente, quindi sono sotto gli occhi di tutti questi dati solo che chi va in conferenza o chi dà i dati al presidente prima di andare a parlare forse li ha presi dalle buste di patatine, non lo so da dove li hanno presi. Comunque Lindstrom è sempre stato un centrocampista centrale, centro-sinistra, trequartista che prediligge l'accentrarsi come la freccia qui. Lindstrom parte da qui e prediligge questo movimento verso il centro. Comunque sono 116 presenze come centrocampista centrale offensivo, 14 a sinistra come esterno-sinistro, 12 come esterno-destro. Queste sono le statistiche di tutta la carriera di Lindstrom, da quando ha cominciato dal Brondby passando per l'Eintracht di Francoforte. Tanto è vero che ci sono anche le statistiche qui, queste sono quelle lì del Brondby con 30 presenze come centrocampista offensivo centrale, addirittura a destra non è mai stato schierato, quindi è inutile che andiamo in conferenza e diciamo Lindstrom ha giocato tante partite a destra, invece voi dite che è un trequartista, Lindstrom nasce come trequartista, quindi se lo vogliamo capire è un bene per il Napoli ed è un bene anche per Mazzardi perché non sanno ancora dove metterlo. Queste sono le presenze con l'Eintracht, ne parlava il Presidente ma sono numeri tutti sballati quelli che ha dato il Presidente, sono 59 le presenze di Lindstrom come centrocampista centrale offensivo, 5 a sinistra come esterno a sinistra, 5 come esterno a destra, è adattato su quella fascia destra, è vero che ha fatto benissimo con l'Eintracht su quella fascia destra ma Lindstrom nasce centro-sinistra, quindi visto che tra le liste non abbiamo messo Zielinski, Zielinski rimane o non rimane, Demme fuori, hai un Lindstrom da poter schierare anche in un 4-2-3 sul quale non sono d'accordo. Nel tornare a questo modulo l'abbiamo visto ieri perché siamo molto vulnerabili a livello difensivo, nel primo tempo della partita di ieri siamo entrati anche bene, il primo quarto d'ora Napoli in dominio riversato nella metà campo avversaria, due tiri di Quara dove ci sono due grandissime parate di Montipò, un calcio di rigore pronti via, non dato, perché non è stato dato il calcio di rigore, lo hanno detto tutti, ma da quando ha parlato quell'arbitrino al VAR alle Iene, oscurato e con la voce criptata, l'AIA non ha fatto altro che correre ai ripari, non mandando più gli arbitri al VAR e cercando di limitare le chiamate perché poi abbiamo saputo dall'arbitro che quando uno viene chiamato al VAR influisce sul voto poi dell'arbitro, cosa assurda come gestione interna arbitrale, ma non ci voglio andare a punzecchiare fino in fondo su questa situazione perché è sotto gli occhi di tutti e chi non lo vuole vedere non lo vede, tutto qua. Il secondo tempo del Napoli è completamente diverso dal primo, il primo sembrava un Napoli in costruzione, sembrava un Napoli proiettato in avanti con una specie di idea di gioco perché non è ancora fluida e ne tantomeno funziona alla grande, finisce 0-0 il primo tempo, nel secondo per un quarto d'ora, 20 minuti, praticamente il nulla, il Verona comincia a prendere fiducia, comincia a prendere campo, ci mette in difficoltà e va avanti 1-0, prima di allora noi ci siamo resi pericolosi solo con una discesa di Juan Jesus sulla sinistra che mette una palla rasolera al centro, tapin di Simeone e Montipò ancora pronto e in posizione su quella palla, dopodiché prendiamo il gol e il Napoli comincia ad avere Pepe, entrano Lindstrom e Gong, un attimo di assestamento quando entrano forze fresche in attacco perché Lindstrom andava quasi a cozzare con Quara su quella fascia sinistra, Quara si accentra e fa quasi sottopunta e Lindstrom si prende appunto il lato sinistro dell'attacco del Napoli, comincia a funzionare, Lindstrom scende sulla sinistra, manda al bar il diretto avversario con una finta in area di rigore, raso terra in tutta la calma olimpica possibile, c'era in Gong, il gol è stato battezzato come un autorete, io credevo che era un gol di in Gong, comunque in Gong si è fatto trovare pronto su quel pallone, 1-1 e palla al centro, la sentenza Quara arriva all'87 se non erro quasi sul finale, chiamatela zona Mazzarri, chiamatela come volete, Mazzocchi recupera un pallone con il Verona in uscita palla a terra, recupera il pallone Mazzocchi, la scarica a Quara, siamo nella tre quarti avversaria, Quara si accentra un tantino, lascia partire un destro che abbiamo già visto l'anno scorso contro il Monza, anche se quello contro il Monza girava di più e finì un tantino più a fil di palo di quello di ieri, ma la mette quasi sotto l'incrocio, Quara con un grandissimo gol e ci porta i tre punti fondamentali per recuperare appunto terreno sulla Lazio e sulla Fiorentina che hanno perso, l'Atalanta è vero, infermabile al momento, speriamo che cali fisicamente perché è una squadra veramente in condizione psicofisica, al top, le squadre di Gasperini hanno sempre corso, però qualche calo durante la stagione possono sempre averlo, noi dobbiamo fare punti e dobbiamo vincere quante più partite possibile, pareggiarne diciamo il giusto, ecco, non andiamo a giocarci per esempio la partita a Milano per il pareggio perché loro sono molto vulnerabili anche a livello difensivo e ho stilato alcune formazioni che mi piacerebbe vedere nelle rotazioni del Napoli, poi fatemi sapere se siete d'accordo anche voi qui sotto nei commenti, ci sono delle motivazioni che andrò appunto ad elencare e partiamo con le formazioni altrimenti questo video diventa troppo lungo, allora questo è un 3-4-3, partiamo dalla difesa a 3 perché a me questo ritorno alla difesa a 4 e poi ripassiamo a 3 e poi torniamo a 4, crea solamente confusione, io ho messo i nomi dei titolari o diciamo dei giocatori che vorrei vedere in campo al di là che siano infortunati, squalificati o meno, è solo perché vi faccio vedere che con un cambio possiamo cambiare tranquillamente assetto tattico con la formazione che andremo a vedere dopo questa, Nata, Nosti, Garderachmani, Collini tra i pali, Mario Ruilo, Botti, Ganghissati, Lorenzo, Politano, Simeone e Quara Schele, è un 3-4-3, l'abbiamo già visto, abbiamo già visto questa formazione, funziona perché a livello difensivo siamo coperti e non prendiamo le imbarcate che abbiamo preso ieri col Verona perché una squadra più attrezzata ieri ci avrebbe infilato un paio di volte e dico un paio di volte per stare basso, prima che noi accendevamo la lampadina e cominciavamo a giocare un tantino, con un solo cambio, togliendo un centrale di difesa, possiamo passare a questa qui, ci siamo? Allora, questa qui è un 4-2-3-1, togliendo il centrale di difesa, scendendo Mario Ruil e Di Lorenzo sulla linea difensiva, lo Botti, Ganghissati, appunto, a centrocampo, a schermare la difesa, un 4-2-3-1, entra Lindstrom al posto del centrale, lo metti sotto punta, Guardi Schele a sinistra, Politano a destra e Simeone davanti. Se vuoi offendere, se hai bisogno di recuperare un gol e al limite non ti sta andando bene questa difesa a tre, si potrebbe optare per un 4-2-3-1 che a me piacerebbe, e non poco, vedere soprattutto Lindstrom e Quare insieme. La formazione che invece ho fatto io e vorrei vedere, non dico contro il Milan perché non lo so se, eccola qui, se Nathan possa recuperare. È questa qui. Olivera, Nathan, non lo so nemmeno se ci sarà Olivera, comunque, poi per gli uomini si possono sempre adattare ai Mazzocchi, ai comunque Osticard che può giocare. Comunque Olivera, Nathan, Racmani, Di Lorenzo, sempre collini tra i pali. Lo Botti, Ganghissati, a schermare la difesa, nel caso tu voglia continuare con la difesa a 4, questa è una formazione se tu vuoi continuare con la difesa a 4 ma vuoi avere comunque una fase offensiva di tutto rispetto e con una pericolosità spiccata. Lo Botti, Ganghissati, a centrocampo, Lindstrom l'ho messo a sinistra e vi spiego perché, Quaraskelia sottopunta, Simeone e Ngonge dall'altra parte. Si potrebbe schierare questa formazione contro il Milan, secondo me, al di là di Olivera, Nathan, perché Mario Rui è squalificato e non gioca, non lo so se Olivera e Nathan riescono a recuperare per il Milan, potrebbe essere anche Mazzocchi Osticard dal posto di Olivera, Nathan, cambierebbe ben poco a livello difensivo, ecco, perché ho messo Lindstrom sulla sinistra, mi direte ma lì è la posizione di Quaraskelia, assolutamente, ve lo spiego al volo e chiudiamo anche il video così non vi tengo attaccati allo schermo per troppo tempo e andiamo a spiegare questa situazione, Lindstrom qui, Quaraskelia qui, per il semplice fatto che Quaraskelia è il calciatore del Napoli più intelligente secondo me a livello tattico e a livello divisione di gioco, quindi può tranquillamente svariare, cosa che forse Lindstrom a meno ma non sto declassando appunto il nostro Gesper, solo che Quaraskelia potrebbe tranquillamente andare ad attaccare qui sulla fascia dove si è sempre trovato bene, Lindstrom essendo un centrocampista offensivo assolutamente che predilige a centrarsi e portarsi qui con il pallone sul destro, si potrebbero incrociare le situazioni, poi nel caso si voglia schierare Lindstrom sotto punta e Quaraskelia appunto a sinistra in questa formazione, lo si può fare, lo si deve fare e mi auguro che Mazzardi ci abbia capito un tantino in più vista la prestazione di ieri ma dalle dichiarazioni post partita, non credo che sia una cosa che si è abbalzata alla mente del nostro allenatore quindi avremo sempre quest'incognita Lindstrom, Lindstrom è il futuro del Napoli per quanto mi riguarda e dovrebbe coesistere con Quaraskelia visto che hai perso Zilischi, l'hai messo fuori, l'hai perso, mettetela come volete, non c'è, ti serve qualcuno che abbia un livello tecnico più alto di Cajust, che ieri Cajust e Politano per me insufficienti, Lobotka e Quara i migliori, una linea difensiva che fa acqua e va a zonzo, una linea difensiva a 4 in un 4 del 3 quindi non lo facciamo più per favore perché almeno fino a fine anno sono cose che vengono studiate da giugno e hanno un processo diciamo di formazione nella normalità delle cose dove tu gradualmente ci arrivi e riesci ad avere automatismi oleati e perfetti ad oggi che poi è febbraio dovresti giocare quasi a memoria altrimenti di provarlo a campionato in corso tra le partite che ci sono non porterà mai a niente, l'abbiamo visto da settembre e poi ti serve un difensore velocissimo se vuoi tenere almeno uno dei due centrali, se vuoi tenere la difesa alta, non ce l'hai? perfetto, ti serve lo schermo davanti alla difesa così come questa formazione, che ci sia angoncio, ci sia politano lì davanti, a me cambia ben poco, è un fattore di posizionamento in campo che potrebbe cambiare e dovrebbe cambiare per poter far bene anche se prediligo o meglio Mazzarri fai quello che hai sempre fatto e per il quale diciamo sei stato conosciuto come allenatore, hai sempre giocato a 3-0, gioca a 3, lo puoi fare, i calciatori del Napoli ci sono e lo possono tranquillamente fare, lo abbiamo visto nel recentissimo passato, Supercoppa eccetera eccetera, quando abbiamo cambiato a 3, speriamo che si risolvano queste incognite tattiche e andiamo a Milano almeno per prenderci il punto perché non è un Milano irresistibile punto primo, punto secondo a livello difensivo, non voglio dire che stanno messi quasi male come noi, ma siamo lì, siamo lì anche a livello di infortuni, comunque Rinders non sarà della partita, noi abbiamo perso Mario Rui per l'ammunizione di ieri, ce la possiamo giocare tranquillamente, è vero che a Milano e a San Siro non c'è niente di semplice ma dobbiamo provarci, è la classifica che l'ho detta, secondo me, dobbiamo provarci e dobbiamo stare attaccati a questo trenino Champions, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, sempre Forza Napoli e buona settimana, ciao!